segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te allora buonasera vi è luigi bersani bentornato senta parliamo di tante cose però iniziamo la nostra trasmissione silvio berlusconi è ancora in ospedale a milano noi naturalmente ci collegheremo con il san raffaele li vuole rivolgere un saluto io lo rivolgo di cuore con tutti quelli che ne parlano come se fosse già di là sono sicuro che sta di qua cosa ha fatto cosa ha fatto anzi che caratteristica berlusconi per aver inciso così tanto sul nostro paese ma intanto sul piano personale è una persona non replicabile sul piano politico è un liberale immaginario che è riuscito a raccontare essendo duopolista eccetera è uno secondo me che diciamo questo piccola critica insomma che voglio fare che laddove 54 la costituzione parla di discipline onore non svolge le funzioni pubbliche fosse disciplina onore ci ha messo consenso e successo detto questo così il suo capolavoro è di avere come si sa un occhio attento agli affari suoi no ma di trasmettere generosità cosa che io continuavo a predicare i miei attenzioni perché quando quando una signora anziana è palesemente non ricca ti fermi in un supermercato ti dice ma perché ce l'avete tanto con berlusconi o quando un episodio per me fulgorante quando era appena segretario lui ha avuto l'attentato diciamo tirarono la statuetta dell'uomo sul volto io sentire bisogno di andarlo a trovare lo andai a trovare al San Raffaele uscendo mi incrocia una signora anche questa anziana mi aggredisce urlando proprio faccia a faccia ecco voi comunisti prima lo massacrate poi andate a trovarlo io dico signora non dica così guardi lascia stare sono andato a trovarlo guardi è lui sta bene questo si trasfigura e mi dice grazie grazie con un sorriso dei fenomeni di innamoramento vero e proprio dopodiché io credo che abbia introdotto nel sistema un grado di personalizzazione del potere e della politica inedito nella storia del paese della repubblica che è rimasto anche dopo il suo abbandono della leadership del centrodestra non è rimasto in qualche misura ha contagiato anche il centrosinistra ma non so se è questo solo questo certamente lui insomma aveva anche strumenti di potere che gli hanno consentito di fare un personalizzazione al quadrato rispetto a tutte le altre che noi conosciamo e questo è anche in questo dibattito assurdo mentre uno è sul letto però poi sui successioni non successioni è il problema io ho sempre pensato ne avevo anche parlato con qualcuno di loro che una successione per uno così è solo dinastica perché un partito che nasce diciamo con una proiezione sua e si considera ancora oggi una proiezione sua è molto difficile che trovi la strada ci vorrebbe una rifondazione molto dopo di che questo sta mettendo in moto sta storia il centro nel centro ma non c'è cioè non c'è quella roba lì inutile che ha visto che Calenda e Renzi ora tra l'altro lei più tardi si confronterà con con Carlo Calenda ma Calenda e Renzi si scoppiano per forza perché c'è una fase dialettale delle mie parti che è dal da fe che dal da di cioè dove ci sono dei problemi ci sono delle litigate i problemi nascono dal fatto che è una prospettiva diciamo così illusoria quella di creare un centro nel sistema autosufficiente che diregge il traffico comanda e dalla direzione di marcia tutte quante non c'è in nessun posto al mondo una cosa così secondo me Renzi ne è più consapevole e quindi si tiene più le mani libere Calenda diciamo così è più in buona fede ci crede senta a stare ai fatti che ha preso il testimone nella guida del centrodestra è Giorgia Meloni che guida il paese è vero che Berlusconi era quello col sole in tasca no? e come dice lei sa farsi volere bene sa voler bene Giorgia Meloni è sempre accigliata e c'è un tratto che gli strumenti che ha in mano questo governo non bastano mai lei oggi sa che c'è stato il consiglio dei ministri stato d'emergenza sull'immigrazione c'è un nuovo reato per chi imbratta le pareti dei beni culturali parleremo a lungo dell'economia che impressione le sta dando Giorgia Meloni al governo? ma è destra destra è un fatto che sta succedendo anche in altri posti al mondo perché Berlusconi non era destra destra? era destra ma ripeto di un liberalismo immaginario che però aveva l'esigenza di tenersi agganciato alla dimensione popolare europea tenere canali aperti con il mondo insomma è la logica alla fine è la logica dell'uomo da fare che ha bisogno insomma di stare in una compagnia larga vasta e di non chiudersi a riccio la destra è una destra è una destra identitaria e che alla fine è capace solo di smontare e smonta il 110 e smonta il reddito di cittadinanza e smonta il meccanismo di governance del PNRR e smonta quel tanto di progressività che c'è al fisco eccetera quando è ora di montare qualcosa cioè di va sulla propaganda no? cioè questi qui urlavano come le acquile sulla questione di dichiarazione di emergenza quando avevamo mille morti al giorno noi ci davano dei golpisti adesso diranno domani quando uno gli dirà ma voi no no ma nella legislazione italiana è vero la dichiarazione di emergenza questo che dice Bersagni è vero ora vediamo se è vera l'interpretazione ma vi facciamo vedere era il tempo del covid Giuseppe Conte e il suo governo dichiarano lo stato d'emergenza così reagisce il capo dell'opposizione Giorgia Meloni la capo dell'opposizione avete imparato la lezione la lezione è che lo stato d'emergenza consolida il governo perché quella della quale vi state occupando non è la salute degli italiani ma è la salute del vostro governo perché lo stato d'emergenza vi serve per consolidare il potere perché lo stato di emergenza vi consente di fare quello che volete senza regole e controlli però magari ha ragione ora che lo mette perché stanno arrivando tantissimi immigrati magari aveva torta all'epoca guardi nel panorama giuridico italiano stato d'emergenza serve per che cosa per semplificare delle procedure per metterli dei soldi diciamo fuori sacco questo serve questa misura che hanno preso oggi adesso la vedremo nei particolari dove voglio mirarla ma il commento l'ha già fatto Musume il ministro Musume sia chiaro che non risolvi ha detto lo sospettavo ora ne parlerà con gli ospiti che entreranno però mi dice una cosa lei dice sanno solo smontare cartello 9 no sanno anche dare dei soldi perché vede oggi c'è stato il DEF la crescita arriva all'1% qualcosa pure meglio del previsto e questo permette di avere dei soldi a disposizione sono 3 miliardi loro dicono sono i redditi medio-bassi quest'anno abbiamo fatto dei calcoli noi quindi diciamo è difficile che abbiamo centrato però facciamo l'ipotesi i redditi fino a 35 mila euro per 12 mesi potrebbero voler dire tra i 10 e i 30 euro circa in più al mese che non è male no no meglio di niente ma c'è una goccia nel mare del problema e anche qui non lasciamo stare adesso il DEF i numerini le tecnicalità cioè cos'è che sta succedendo sta succedendo che il sentiero della finanza pubblica si sta rifacendo stretto fino all'altro giorno noi avevamo tutti i problemi del mondo covid e non covid ma non avevamo il problema della finanza pubblica soldi ce n'erano adesso per motivi che è inutile elencare noi ci mettiamo in quella strada lì quest'anno, l'anno prossimo e via andando allora qui non basta la prudenza e qualche goccia nel mare qui bisogna registrare di nuovo le politiche cosa vuol dire? vuol dire primo no all'assismo fiscale secondo riportare le risorse interne a chi sta soffrendo di più dell'inflazione cioè il lavoro i centi medio-bassi hai voglia di 10 euro i consumi hanno perso però lo stanno facendo cioè alla fine diciamo una volta accettati i confini che prima rifiutavano vedremo anche con quale violenza li rifiutavano e quel poco che ne esce lo stanno dando a chi sta messo peggio va bene ma noi non si parla più faccio solo questo esempio non si parla più di extra profitti è scomparso finito il governo Draghi la parola è scomparsa gli extra profitti sarebbero i guadagni fatti oltre diciamo quello che avevano guadagnato l'anno prima al momento della crisi sono soldi quelli lì ci sono state due crisi quella del covid e della guerra quindi energia, farmaci e trasporti anche della merce ma poi non è solo quella questione bisogna rinnovare i contratti ho capito dice non tocca al governo rinnovare i contratti ma vuoi chiamare le forze sociali e vedere è possibile che ci siano 7-8 con l'inflazione che continua a viaggiare l'8% che ci siano contratti che non vengono rinnovati con perdita di potere d'acquisto calo dei consumi dice ma con questa inflazione qui è difficile fare i contratti dove non si possono fare diano una botta subito di soldi e allunghino la durata di un anno ai contratti per vedere se cala l'inflazione la sanità aspetti però Bersani ora ne parlerà anche con gli altri ospiti però il quadro è stretto perché fondamentalmente ha accettato Giorgia Meloni con il suo governo di stare all'interno del consesso europeo in qualche misura ogni tanto slitta questa capacità di stare con l'Europa c'è una legge vi faccio vedere il cartello 18 Orban il premier ungherese molto discusso, molto contestato in Europa ha avvarato una legge la anti-LGBT e norme sono inserite intanto le norme che riguardano gli LGBT sono inserite nella legge contro la pedofilia la famiglia tradizionale è l'unica legittima libri e film su omosessualità sono vietati a minori di 18 anni il governo decide direttamente chi può insegnare l'educazione sessuale su questa legge tutta l'Europa la condanna rimane l'Italia a fronteggiarlo quanto può pesare anche sulla nostra capacità di farci aiutare sul fronte immigrazione di far considerare i nostri conti così soffocanti con una certa benevolenza dall'Europa quanto può pesare questa posizione? insomma pesa unita a tante altre pesa moltissimo quando tu oltre a queste cose che sono veramente disdicevoli quando tu ti senti più a tuo agio se sei a Washington o a Varsavia che a Parigi Berlino o Madrid e già questo la dice lunga e quindi io temo io credo adesso c'è il PNR ma lei non si sente a suo agio a Washington lei a Washington non si sente a suo agio ma per amor di Dio mi sento agio anche a Kabul voglio dire ma ma mi sento meglio mi sento meglio a Berlino a Parigi in Co perché penso che l'Europa deve avere un suo profilo quindi adesso alla fine questa trans del PNRR che temiamo che si troverà un modo per averla ma quando ci sarà da mettere a terra tutti quegli investimenti e è un problema che arrivarci quando si affaccerà al nuovo patto di stabilità noi non possiamo pensare che ci facciano degli sconti in un quadro politico di questo genere benvenuto